Grazie Presidente, giusto per annunciare l'intenzione del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle di astenersi rispetto a questo tema. L'astenzione è motivata dal fatto che sicuramente c'è un aspetto significativo di questo Consiglio regionale che a differenza di quello che è successo in altre regioni sta lavorando verso una maggior soprietà dei costi della politica, ci mancherebbe altro. E quindi apprezziamo questo tentativo che è un tentativo per certi versi esemplare, ma almeno relativamente alle altre regioni. Capiamo con una certa, diciamo, anche solidarietà in questo caso la posizione di Sittoscana a sinistra, ma anche dei gruppi consigliari che hanno meno possibilità di avere dei collaboratori per le ristrettezze economiche. Tuttavia, diciamo, come dire, al di là della sovrietà siamo molto preoccupati dello sbilanciamento, o perlomeno del rischio di sbilanciamento che c'è fra Giunta e Consiglio regionale, in una sorta, come dire, di penalizzazione alla sovranità di questa Assemblea. Questa è una cosa che abbiamo sottolineato anche in Commissione Sanità, quando, in qualche modo, lo vedremo poi per la PDL 33, come dire, si esautora in parte il Consiglio delegando la Giunta a tutta una serie di azioni, nomine, che invece sarebbe importante che il Consiglio potesse esprimere la sua. Per un motivo anche banale, in Giunta c'è solo la maggioranza, al Consiglio c'è anche una minoranza, c'è anche un'opposizione. Quindi, in questo senso, diciamo, valutando i vantaggi e gli svantaggi, dando un buon segnale di sovrietà, che comunque credo sia una cosa importante, si ritiene tuttavia che ci sarebbero altri capitoli, per esempio, gli stessi stipendi dei consiglieri potrebbero avere ulteriori possibilità di risparmio, tuttavia, diciamo, valutando nell'equilibrio generale, preferiamo astenersi e non prendere una posizione, pur apprezzando una parte, ma manifestando questa preoccupazione di un rischio di penalizzazione della sovranità del Consiglio.